si cartone no ho spiego questa cosa no lui voce è ora pesca chi ha ministrato in questi anni la sardegna dicono sì hanno fatto i furbi ma non più di tanto non più di tanto a cosa me lo porta mio figlio che fai il cazzo con ma con me, che cosa me lo porti in campagna quando mi dici la sera ma cosa stai portato a casa, devi ti stai portato. Andiamo ai nostri comuni a chiedere l'elemosina grazie alla vostra politica, prendetevi le responsabilità, dimettetevi, dimettetevi, solo così dimostratevi di essere persone oneste. Noi dobbiamo essere la tua guardia cosciente di quel palestra che in Sardegna c'è e di questo voglio parlare. Poi che lì c'erano i poliziotti che hanno picchiato i cugini mi, i cugini di sangue mi hanno picchiato, ma ci siamo. Ma si evita vai che ce l'hanno fatto il recinto. Vergogna e nessuno si è presentato a dire l'ho deciso io, conigli. Manuario, tieni qua, tieni qua, non entrare lo desco. Noi, non entrare lo desco, non entrare lo desco. Noi, non entrare lo desco, non entrare lo desco, non entrare lo desco. Noi, non entrare lo desco. Noi, non entrare lo desco. Noi, non entrare lo desco.